di Ennio e della famiglia. Allora, è stata fatta una pasta con pomodorini gratinati e basilico, dei falafel che sono delle polpettine di ceci, la mettiamo dopo la pasta, appena è finita questo. Poi abbiamo un farro, il farro è afrodisiaco e l'abbiamo fatto per Ennio, bisogna meglio cominciare, vero Ennio? Vero che vede invece che pensare afrodisiaco. Allora, fatto con fagioli ceci e olive taggiasche. Dateci un'altra sedia pure a Ennio. Scusate. Allora, le olive taggiasche sono delle nocciole, quindi non vi strozzate. Poi abbiamo le panatine primavera che sono degli straccetti di petto di pollo con pomodorini e basilico, dei supplì e delle polpettine e delle polpettine di melanzane con funghi al forno. Infine delle striscioline di frittata servite, alcune con le zucchine e la menta e altre con origano fresco e melanzane. E poi un'insalata di melone e rughetta e una grande insalata mista. E adesso buon divertimento. Come vedete da mangiare ce n'è tantissimo, quindi vi consiglio di non accalcarvi tutto. Ma tu sei troppo carina. Eh, già stai fina. Eh, già stai fina. Allora, ok, buona serata. Grazie. Grazie.